L'Associazione Culturale Laboratorio Dietro le Quinte organizza per il 2018 la rassegna musicale del progetto Vale, valorizzazioni artisti locali e emergenti. Si tratta della dodicesima rassegna musicale. La partecipazione alla rassegna è gratuita. Ai finalisti, tre, andranno in premio i seguenti buoni acquisto. Al primo classificato un premio da 800 euro, al secondo un premio da 400 e al terzo classificato un premio da 200 euro, da utilizzare per registrazioni di demo o acquisto di strumentazioni, prodotti musicali. La rassegna aperta a singoli artisti o gruppi musicali emergenti è avuto negli anni sempre un successo crescente. Le richieste di partecipazione devono pervenire entro lunedì 7 maggio al seguente indirizzo. Piero Cerolini invia Campodifossa 14. La busta chiusa dovrà contenere i nomi dei componenti e foto del gruppo, curriculum con repertorio, recapito del referente, l'indicazione di eventuali musicisti iscritti a un corso di laurea presso l'Università dell'Aquila, una registrazione demo su CD contenente almeno quattro brani, proprio cover, la scheda tecnica del gruppo con gli elementi relativi alla disposizione sul palco. La giuria esaminerà le candidature, selezionerà i tre gruppi finalisti che si esibiranno nel concerto conclusivo del concorso musicale che si terrà con ingresso gratuito sino alla capienza del locale, giovedì 24 maggio 2018 presso il Teatro Nobel per la Pace in via Jacopo da Sinizzo a San Demetro Nevestini con inizio alle 21. La giuria riterrà elementi preferenziali nella produzione di brani propri e inediti e la partecipazione di eventuali musicisti e studenti universitari. L'esito della selezione sarà comunicato a tutti i partecipanti. I tre finalisti saranno così convocati per definire il soundcheck pomeridiano e gli aspetti tecnici del concerto finale. Durante il concerto ciascuno dei tre gruppi si esibirà per circa 30 minuti. La giuria a fine concerto assegnerà i premia di tre finalisti che riceveranno anche una targa ricordo, la registrazione video del concerto e il servizio fotografico della serata.